In questo video vi mostrerò come applicare sfumature di ogni genere che sono anche considerate come i gradienti Ora, in questo file abbiamo anzitutto un'immagine di sfondo che è questa qui della scarpa e a destra abbiamo questo rettangolo bianco che vogliamo cambiare e vogliamo applicare una sfumatura Ora faremo clic destro sul livello del rettangolo e cliccheremo su opzioni di fusione A questo punto questa finestra si aprirà e come possiamo vedere qui in questa riga abbiamo sovrapposizione sfumatura cliccheremo su di essa e a questo punto avremo questo check che ci dà appunto l'indicazione che la sovrapposizione sfumatura è applicata al livello Ora non stiamo vedendo niente e il motivo è duplice Il primo è il fatto che il metodo di fusione deve essere su normale e non su luce soffusa dato che in questo caso la sfumatura sarà molto lieve Quindi clicchiamo su normale e già cominciamo a vedere un po' di sfumatura ma secondariamente vediamo che l'opacità è solamente 8% mentre invece se la aumentiamo possiamo vedere l'intera sfumatura applicata al 100% in questo caso Quindi se vogliamo modificare la sfumatura è relativamente semplice forse clicchiamo su questa sezione della sfumatura e a questo punto avremo tutta una serie di predefiniti che possiamo utilizzare quindi semplicemente cliccando su di essi potremo vedere come questa sfumatura viene applicata Adesso modifichiamo e portiamo queste finestre qui possiamo vedere in raffronto l'immagine quale potrebbe essere la sfumatura più adatta per i nostri bisogni e secondariamente se vogliamo appunto creare una sfumatura da zero oppure vogliamo partire da una di queste sfumature esistenti però dopo vogliamo cambiare ad esempio questo colore o quel colore basterà cliccare su questi elementi e come potete vedere nel momento in cui li clicchiamo e li selezioniamo possiamo semplicemente cambiare il colore direttamente cliccando su questa sezione e possiamo andare a effettuare tutte le modifiche che vogliamo in maniera semplice e veloce Ora questi elementi possono essere trascinati per creare diversi tipologie di sfumature e possiamo anche rimuoverli semplicemente selezionandoli e trascinando col mouse in giù quindi come possiamo vedere in questo caso ne abbiamo solamente tre però se volessimo rimuovere ad esempio questo basta trascinarlo in giù e possiamo ottenere una sfumatura a due poli in maniera molto semplice e veloce e se vogliamo aggiungerne di altri basterà cliccare in questa sezione e ne possiamo aggiungere quanti ne vogliamo in maniera semplice e veloce Ora c'è anche una tipologia di sfumatura diversa che è quella del disturbo normalmente non è una di quelle tipologie di sfumature che viene utilizzata spesso però sicuramente un'opzione che potrebbe essere utile in certi casi particolari Ora tornando alla sezione omogenea come potete vedere nel momento in cui abbiamo selezionato la nostra sfumatura e siamo felici di questo gradiente possiamo cliccare su ok e a questo punto il nuovo stile di livello sarà applicato Ora abbiamo ancora delle altre opzioni che possiamo utilizzare per quanto riguarda la sfumatura e la prima oltre a queste due che abbiamo già menzionato è il stile del livello quindi ad esempio possiamo selezionare una sfumatura a gradiente possiamo selezionare una sfumatura ad angolo oppure una riflessa o a rombo quindi come potete vedere abbiamo un paio di opzioni possiamo anche scegliere l'angolo di questa sfumatura quindi possiamo modificare l'angolo e creare diverse tipologie di effetti e anche la scala in raffronto quindi se ad esempio avremo una scala più piccola sarà come se fosse vista più dall'alto mentre invece più andiamo ad aumentare la scala più avverrà questo effetto diciamo di zoom all'interno proprio della sfumatura stessa e anche la scala in raffronto e anche la scala in raffronto